Buonasera, Francesca Mincacci, la Nazione, Perugia torna a casa con un po' di rimpianto per tante occasioni, due legni, negli episodi, poi se ce li puoi commentare anche tu. La partita l'avete vista tutti, noi siamo creati tantissime occasioni, si poteva concretizzare magari anche chiude la partita al primo tempo per le opportunità che avevamo avuto. Si è fatta una gran partita, si meritava di vincere, purtroppo si è preso un gol su un episodio, il calcio di rigore è stato un fatto casuale. Abbiamo preso due traverse, abbiamo mancato un gol a porta vuota, abbiamo fallito altre due opportunità nel finale e una nel primo tempo con Luperini, quindi il numero delle occasioni create purtroppo non sono andate verso quella che secondo me era una vittoria che avremmo assolutamente meritato. Poi meno male che abbiamo invitato la Beffa nel finale, perché comunque Moncini la mano l'ha fatta per recendere gli elementi che fanno quelli della spalla. E poi vorrei, visto che si lamentano loro, vorrei dire che è da rivedere il fallo su di serio, di sicuro l'ammunizione non stava in cielo o in terra, non è la simulazione quella, è il fallo su casa sola. Quindi giusto per le recriminazioni, noi siamo a due, non solo uno, ma siamo a due. Giusto per dire le cose come stanno, se piangono loro piangiamo anche noi. Da cosa si può ripartire in vista da... La prestazione, la squadra ha fatto una gran partita in condizione avvelenata, meritava di vincere, non l'ha fatto e comunque queste ultime tre partite noi la pelle vendiamo cara. Quindi comunque c'è stato un progresso anche sia sul piano fisico che... La squadra, io vi ho detto dopo la partita di Cosenza che noi dovevamo riprendere, fare le cose che sappiamo, non sempre criticare i limiti. I limiti ce li abbiamo, ma due partite alla fine, tre partite alla fine o quattro, non è che migliori i limiti. Però l'importante è saper fare le cose che per noi sono risorse. E noi sulle risorse oggi siamo andati, perché abbiamo un corso, abbiamo aggredito, siamo sempre in avanti. Abbiamo giocato come? Sappiamo che per noi è il modo migliore per esprimerci. Il risultato ci ha penalizzato, lo dico papà e papà, l'ansima di dar il pareggio. Però ripartiamo con la giusta convinzione che dobbiamo assolutamente insistere. Il problema è che oggi si giocava contro la penultima in classifica. E allora? E quindi ci saranno adesso avversari più forti da incontrare. Ma guarda, la Serie B è un campionato talmente difficile che io non vedo mai una differenza tra una partita e l'altra, tra quelle più... Certo, ci sono le squadre che sono comunque delle corazzate, però è un campionato che ci ha insegnato che si può vincere con tutti e perdere con tutti. L'importante è che una squadra si esprima al meglio, al massimo, le proprie possibilità. Poi l'ultima in classifica si fa perdere, perché la Sparpur si giocava la vita oggi. Non mi sembra una squadra che sia allo sbando. E' stata una partita difficilissima, dura per noi e per loro. Però le ultime dieci partite abbiamo fatto sette punti... Allora che facciamo? Ammazziamo? No, no. No, ditemelo, se dobbiamo prendere la forca e ci impicchiamo, me lo dica lei? No, non c'è da impiccharsi. Allora, guardiamo avanti, no? Non c'è da preoccuparsi. Ma preoccuparsi... Ho capito, allora mettiamoci a piangere, lamentiamoci, vediamo che non risolviamo niente. Io ho detto, noi siamo in condizione, ci giochiamo la vita in quelle ultime tre partite. Quello che è stato fatto, è stato fatto. Le ricordo, ho visto che lei mi dirà sui numeri, le ultime dieci partite abbiamo fatto anche sette punti, ma la mia media punti in 31 partite ho fatto 36 punti. Sarebbe 38-39. Quindi quando parlate con me, parlate con riguardo e con rispetto per favore. Capito? Se tiriamo fuori i numeri, i numeri miei sono questi. E' una media da plegare. No, è una media da salvezza, perché a 38 c'è la salvezza in Serie B oggi. Visto che lei vuol fare tanto il professore, lo dico io. Parli con riguardo, parli con riguardo. Un punto e 15 a partita è una media... Non è un punto, 31 partite, 36 punti, non è un punto a partita. Faccia i conti. Allora, faccia moltipliche per 35, vedete quanto le porta. Ascolti. Non voglio fare polemica con lei, lei mi sta tirando dentro una polemica, non l'ho capito. Per quale ho chiesto, signore, scusa, non si è presentato. Daniele De Leschini, Sporta e Ruggia, deve accettare le domande. Io le accetto le domande, le sto accettando. Con educazione. Perché lei a Modena mi rispose in maniera abbastanza... Allora, recidivo lei, perché io sono una persona educata. Che io gli dissi, un buon punto, però la classifica è questa. E mi disse, la classifica la vediamo in primavera. In primavera siamo del sultimo. Intanto quartultimi. Intanto quartultimi, la partita c'è da giocare a Lanconi. La matematica, la invito a ripassarla.